Buonasera a tutti, bentrovati. Shana Tovah a tutti. Sicuramente Hashem avrà scritto soltanto buone benedizioni per tutti, però dobbiamo ricordarci di essere capaci di portare, di prendere queste benedizioni di Dio in un modo fisico, che ne rimangano in un modo astratto nel cielo, perché le benedizioni ci sono sempre, ma a volte noi non riusciamo a prendere e materializzare queste benedizioni che Hashem ci ha dato e speriamo che possiamo appunto ricevere queste benedizioni. Chiedo accontentemente di mettere in muto, ma non avremo anche altri. Grazie. Cominciamo oggi la nuova parasha, la parasha di Vaigash. Praticamente l'ultima, ecco è entrata anche Stefania, è benvenuta Stefania Shana Tovah. Praticamente l'ultima frase, l'ultima storia della parasha precedente era nel mezzo che la storia che è Beniamino viene accusato di avere rubato la coppa del vicere e Giuseppe, cioè il vicere, dice che colui che verrà trovato e che lui ha preso la coppa, lui soltanto verrà verrà intergiunato, invece gli altri saranno liberi. E questo è finito la parasha scorsa. Adesso cominciamo la nuova parasha Vaigash. Siamo a pagina 520 di chi ha il testo e dice così, passo numero 18, che è il primo passo, Iuda gli si avvicinò a Giuseppe, il faraone, al vicere e disse, ricordiamoci, Iuda è il fratello che ha preso la responsabilità davanti a papà di riportarlo dietro, salvo, per favore mio signore, lascia che il tuo servo dica qualcosa alle orecchie del mio signore e non adirarti con il tuo servo perché tu sei importante come il faraone. Qua Giuseppe, Iuda vuole dire un qualcosa al vicere e dice, fai attenzione, ho una cosa importante a dirti, commento, dice Iuda si avvicinò e disse, in questo momento Iuda era animato dalla collera, era molto arrabbiato, Iuda era ormai pronto a tutto, vaigash, il verbo vaigash vuol dire avvicinarsi, ma vuol dire anche, può essere anche visto come uno si sta avvicinando, anche con intenzioni di fare la guerra, lui in questo momento era pronto a fare il tutto per tutto. Minacciose. Minacciose, sì. Pur di salvargli il fratello, lui è pronto anche ad andare in combattimento con il vicere, che è una cosa assurda, perché come può pensare chiunque di poter fare una battaglia fisica con il vicere? Cioè, Iuda appena alzava la mano, aveva un esercito che si buttava per difendere Giuseppe, non aveva senso, però lui, avendo appunto promesso a papà la responsabilità di riportare il fratello a casa, era pronto a tutto. Allora qua dice che era appunto, qua Iuda era ormai appunto a tutto, persino alla guerra. Al Sheik si chiede tuttavia che cosa avesse ora Iuda da reclamare. E su qua fa un ragionamento molto interessante e dice, avendo egli stesso, Iuda, affermato, quando ha detto, eccoci, siamo schiavi del nostro Signore, assieme a colui presso cui è stata trovata la coppa, vuol dire, lui stesso, Giuseppe, Iuda, aveva detto nell'altra lezione, guarda, siamo tutti insieme noi qua, tutti saremo schiavi, non soltanto lui, perché lui era così sicuro che nessuno aveva rubato, che fa, sai cosa, non soltanto chi trovi la coppa da lui sarà il tuo servo, sarà impregionato, tutti noi saremo schiavi tuoi con lui, con nostro fratello, non sapendo ancora che c'è veramente la coppa. Allora, qua dice l'Al Sheik, quando tu stesso, Iuda, hai detto questa frase, che tutti saremo schiavi, allora, ora che Iuseppe in realtà quello sta facendo, sta allievando la pena, perché lui vuole tenere soltanto uno in prigione, non tutti, allora adesso ti lamenti, cioè tu hai dato l'idea che tutti saranno i tuoi schiavi, non soltanto il colpevole, ma tutti. E adesso che invece Giuseppe dice, no, 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 soltanto chi è il colpevole sarà schiavo, cioè praticamente ti sta alleviando la colpa, allora cos'hai da arrabbiarti di Iuda? Se tu hai proposto addirittura di peggio, e lui invece dice no. Allora Iuda reagiva opponendosi con vehemenza. In realtà, inizialmente, Iuda era certo, questa è la risposta, in realtà, inizialmente, Iuda era certo che fosse giunta l'ora che i fratelli fossero puniti per l'avvenita di Iuseppe. Lui, come ci sono anche detti tra di loro, vedete, Dio ci sta punendo per quello che abbiamo fatto Giuseppe. Essi lo avevano venduto come schiavo e ora venivano tutti resi schiavi. Perciò, misura per misura, come tant'altro vi ho spiegato, che nella Torah, quello che si chiama in ebraico, mi dà che nega il midà, ovvero nel modo come tu ti comporti, Dio si comporta con te. Perciò, qui in questo senso, misura per misura, vuol dire, vieni ripagato con la stessa moneta, detto in italiano semplice. Perciò, loro, avendo, secondo il pensiero di Iuda, loro, avendo venduto all'epoca il fratello come schiavo, adesso, misura per misura, loro diventano schiavi. Per questo, Iuda aveva detto che possiamo dire, che possiamo dire, cosa possiamo giustificarci, Dio ha trovato il modo di far ripagare l'iniquità dei suoi seri. Perciò, noi, in questo momento, dicevano, è palese, basta, Dio ci sta facendo pagare misura per misura. Abbiamo venduto un fratello come schiavo, diventiamo schiavi anche noi. Perciò, fino a quel momento, gli andava bene che tutti diventassero schiavi. Perché? Perché lo vedeva come una punizione divina, occhio per occhio, denti per dente, tipo, quando, invece, con iniquità, si riferiva alla colpa per l'avvento di Giuseppe. Vedendo, però, che quest'ultimo, questo Giuseppe, desiderava liberare tutti i fratelli e trattenere come schiavo proprio Beniamini, allora Iuda ebbe la prova che non si trattava affatto della punizione per l'avvento di Giuseppe. Perché? Perché Beniamino non aveva partecipato. Capite il punto? Fin quando Beniamino pensava in testa sua che tutta questa vicenda qua è una punizione divina perché loro avevano venduto il fratello come schiavo, allora gli andava bene che tutti diventassero schiavi perché lui vedeva la punizione divina. Ma quando Giuseppe dice no, no, tutti i liberi forché Beniamino poi Beniamino era l'unico che non aveva partecipato quando i fratelli hanno venduto Giuseppe e Beniamino non c'era neanche. E allora cosa, proprio chi il più innocente viene lui accusato. Allora lui ha capito il Giudà in questo punto che non è una cosa divina. Perciò gli andava bene se fosse stata una punizione divina, ma quando capisce che tutti sono assolti e meno Beniamino allora ha capito che non c'entra niente la punizione divina. Si trattava semplicemente di accuse infondate dei capricci di un sovrano prepotente perciò Giudà decise di ricorrere alle maniere più forti. È chiaro? Perciò finché Giudà era convinto che si trattava di una divina provvidenza di Dio che vuole fargliela pagare accettava. Ma quando ha capito che non c'entra niente qua il castigo divino ma era più che altro un capriccio di Giuseppe che continuava a dire questo, quest'altro allora a questo punto lui si è arrabbiato basta. Quanto puoi giocare con noi? Quando dice, vuole dire qualcosa alle orecchie del Signore, del mio Signore cioè Giuseppe che le mie parole entrino nelle tue orecchie come spiega Rashi ossia che la mia richiesta ti convinca e Giuseppe ho qualcosa da chiederti ma mi raccomando apri bene le orecchie fai entrare bene le mie parole in tue orecchie parlando di qualche cosa che voleva che Giuseppe accettasse Giudà si riferiva alla supplica che si apprestava a fare ossia che Giuseppe liberasse Beniamino e prendesse lui al suo posto come schiavo cioè questo dice apri bene le orecchie vuole fare uno scambio prendi me e lascia Beniamino sempre avanti nel commento non adirarti con il tuo servo non arrabbiarti di quella cosa che voglio dirti Giudà si apprestava infatti a parlare in toni duri che avrebbero potuto facilmente suscitare la collera di Giuseppe e quindi non voleva che il vice re fosse colto di sorpresa e reagisse collericamente perciò Giuseppe sta dicendo attenzione ascolta bene io adesso ti dico una cosa ma ti sta anticipando che avrebbe parlato in un modo duro per non farlo trovare di sorpresa che lui si sente come uno che li vuole dietro perciò ti sto avvertendo sto parlando con toni duri Giudà intendeva dire non adirarti quando ti dirò che sei stato tu a metterci in questo impiccio tu faraone vice faraone avanti poiché tu sei importante come farò ti considero importante come il re oppure un'altra cosa lo abbiamo citato il Midrash dice interpreta la connotazione più profonda della frase e spiega tu sarai colpito dalla leva allora quando dice perché tu sei come il faraone dice due cose io ti considero importante come il faraone anche se tu sei soltanto il vice per me sei come il faraone ma c'è un'altra interpretazione un'altra spiegazione che dice tu sarai colpito dalla lebra per aver trattenuto Beniamin come lo fu in passato un altro faraone per aver trattenuto per una sola notte la sua bisnonna sarà quando sarà l'amore di Abramo era stata presa dal faraone in casa che ovviamente poi lui non è riuscito neanche a toccarla quella notte il faraone ha passato le pede dell'inferno e non è riuscito neanche a sfiorare Sarà perché era protetta da angeli da cose che la proteggevano e lui era diventato malato di lebra per la punizione di aver tenuto una donna Sarà allora dice tu sei come il faraone ovvero così come il tuo avvo quel faraone lì è stato punito di lebra perché ha trattenuto Sarà in casa sua tu anche come il faraone verrai punito di lebra perché stai trattenendo un bambino un ragazzo innocente che è Beniamino un'altra interpretazione del midrash è la seguente dice sei tale e quale al faraone perché entrambi non mantenete le promesse e i decreti perché tu sei come far sei come lui stessa pasta non mantenete le promesse cosa il faraone aveva infatti decretato che uno schiavo non sarebbe mai stato nominato sovrano ne avrebbe indossato abiti da principe tu hai detto di volere mettere un A perciò tu vedi non hai la parola hai fatto diventare Giuseppe è diventato vicere perciò uno schiavo che diventa vicere vuol dire che il faraone non ha parola e dice tu sei come faraone così come il faraone non ha la parola ha decretato che uno schiavo non potrà mai diventare governatore e lo hai diventato tu Giuseppe cioè vice faraone sei come lui non mantieni la parola in che senso tu hai detto di voler mettere un occhio su di lui su Bignamino perciò lui ha detto portatevi Bignamino voglio soltanto vederlo vedere che voi non dite bugie mettere un occhio su di lui voglio vedere che esiste adesso tu non hai parola cioè hai detto che vuoi portare qua Bignamino e dice sarebbe questo il modo di mettere un occhio su qualcuno se tu hai chiesto portatelo voglio solo vederlo e adesso cosa fai lo stai accusando ma non hai la parola come lui anche tu non hai parola Rambani il Rambani il Nachmanide non approva quest'ultima interpretazione poiché tutto sommato sommato Yosef non poteva essere accusato di trattare il ladro duramente cioè Giuseppe pardon Yehuda si sta arrabbiando con Giuseppe che tu sei ingiusto però in realtà non puoi dire che lui sta facendo un'ingiustizia la regola è chi viene trovato con la furtiva diventa schiavo e lui non sta facendo più di questo quando dice perché accusi ingiustamente il vice re e dice quando era arrivato Benjamin Yosef lo aveva trattato con una massima cortesia vi ricordate che gli aveva dato cibo in più vestiti in più anzi Giuseppe con lui era gentile e con grande calore il colpevole era quindi Benjamin e non Yosef cioè tu accusi Giuseppe di essere ingiusto ma non è vero e Benjamin che in realtà doveva essere con tutto quello che ha ricevuto anche è andato a rubare il discorso di Yehuda deve essere perciò inteso come un appello alla misericordia di Yosef perciò scartiamo tutte queste cose qua e lui dice non è invece e questo è quella cosa giusta che cosa che Yehuda sta sta mandando un appello di misericordia a Yosef che in precedenza si era proclamato timorato di Dio tu che hai detto che hai timore di Dio e fai sempre la cosa giusta ti sto mandando un messaggio salva il mio fratello quindi esponendosi a un grande rischio Yehuda esprime un ragionamento emotivo spinto dalla sua promessa e dall'amore per il papà perciò lui qui perde le staffe va con tutta la sua forza che può avere perché lui non guarda in faccia nessuno adesso io devo salvare una persona non guarda in faccia nessuno egli conclude dicendo se qualcuno deve rimanere schiavo che questo sia io affinché mio padre anziano e ansioso possa rivedere il figlio minore il vero messaggio che lui sta dando è questo qua lascia stare il mio fratello per di me avendo garantito per la sicurezza di Benjamin non posso ritornare a casa senza di lui per non vedere il male che coglierebbe mio padre è chiaro finora? ok andiamo avanti passo 19 dice così sempre Giuseppe e Iuda il mio signore aveva domandato ai suoi servi dicendo avete padre un padre o un fratello prima no? commento 19 il mio signore aveva domandato fin dall'inizio fin dall'inizio le tue intenzioni erano dubbie perché dovevi porci tutte queste domande? siamo forse venuti a chiedere la mano di tua figlia o tu volevi forse quella di nostra sorella? tutte queste domande perché cosa? tuttavia non ti abbiamo nascosto nulla abbiamo detto la verità abbiamo un padre e anche un fratello la ricapitolazione dettagliata di Iuda lascia emergere chiaramente i sospetti che la faccenda del calice rubato non sia altro che una montatura per incastrare beniamini i suoi fratelli ma cioè qua Iuda comincia a dire troppe storie strane qui dentro troppe vieni al dunque cosa vuoi fare? vuoi vuoi accusarci? dai parla chiaro cosa vuoi da noi? il signore aveva domandato avete un padre? tu sostieni che la coppa è importantissima per te cosa che ti abbiamo rubato? perché grazie a essa riesci a indovinare cose occulte? perché allora avevi bisogno di porci tutte queste domande quando potevi sapere tutto dal calice? bel punto no? se tu dici che questo calice è così importante perché tu tramite il calice vedi tutto allora se tu vedi tutto perché ci hai chiesto queste domande e hai voluto la nostra risposta vuol dire che è tutto un bluff vuol dire che tu stai trovando una scusa per incastrarci ingiustamente per questo che gli audassi arrabbia non perché lui sta facendo qualcosa di realmente giusto perché è giusto pugnire chi ha rubato ma lui sta accusando il vicere di di fare un complotto per incastrare i fratelli cosa che è vera ovviamente perché Giuseppe è un complotto che sta facendo ok passo 20 noi dicemmo al nostro signore abbiamo un padre anziano e un figlio della vecchiaia della vecchiaia giovane vuol dire un figlio giovane della vecchiaia quando lui era vecchio suo fratello è morto e gli è rimasto l'unico di sua madre e suo padre lo ama se abbiamo detto la verità Catan letteralmente piccolo leggiamo quella scintilla di Hassidut quel box grigio e dice così queste sono le parole del Rebbe che gli spiega così Yehuda si apprestava infatti a parlare in toni duri come abbiamo detto questo è quello che Rashi dice allora Rebbe chiede non sarebbe forse stato più giusto più saggio da parte di Yehuda ricorrere a metodi diplomatici per ottenere il massimo vantaggio da colui che tutto sommato era il vice faraone della superpotenza egizia cioè tu sei uno schiato tu sei un forestiero sei nessuno vieni qua e cerchi di fare la guerra con i faraoni la prossima più importante al mondo ma scusami vai con diplomazia vai con le buone cerca di addolcirlo allora la risposta è quando esiste il rischio che un fanciullo vada perduto quando cioè l'esistenza spirituale di un'anima ebraica è in pericolo fanciullo vuol dire la nostra anima allora non c'è spazio per belle parole e buone maniere in un momento di emergenza del genere non bisogna esitare a ricorrere alle maniere forti per salvare la vita spirituale di un altro ebreo in pericolo cioè qua Rebbe dice quando sei in guerra quando c'è una guerra aperta non hai te devi combattere con tutte le forze specialmente qua che si tratta della non soltanto del beniamino fisico ma l'insegnamento è il beniamino era un bambino chiamato un fanciullo la nostra anima è il nostro fanciullo che noi dobbiamo custodire è l'anima che viene custodita allora dice quando l'anima quando c'è l'identità ebraica di qualcuno che è in pericolo non puoi andare con il politically correct devi andare con le buone maniere devi andare con tutta la forza quando c'è qualcuno che è c'è qualcuno che è imprigionato devi andare in qualche modo in tutti i modi di salvarlo non devi andare con le buone perciò non si guarda in faccia a nessuno quando bisogna salvare un'altra persona ok 21 avevi detto ai tuoi servi sta continuando a rimuginare ripete tutto quello che è il faraone ha detto invece farone avevi detto a noi che sono i tuoi servi conducetemelo perché io lo possa vedere conducetemelo letteralmente fatemelo scendere in ebraico si dice oridu fatelo scendere a me la traduzione è stata conducetelo ma in realtà l'ebraico vuol dire fatelo scendere letteralmente il verbo la redet scendere indica propriamente il processo di discesa da eric Israel della terra di Israele la più alta delle terre in termini spirituali in contrapposizione alla salire praticamente dice fatelo scendere non si intende geograficamente scendere perché così come noi facciamo aliyah in Israele vuol dire salita da dovunque andiamo anche se c'è un posto più alto geograficamente da Israele quando vai in Israele si chiama salita e quando vai via da Israele si chiama discesa cioè non si parla di geografico ma di spirituale e tu hai detto perché io lo possa vedere letteralmente io poso i miei occhi su di lui e questo è quello che tu hai detto adesso che l'hai visto tu stai comportando in un altro modo 22 il ragazzo non potrà lasciare suo padre perché se la lascia se lasciasse suo padre egli morirebbe aspettiamo un secondo ok mi sentite vero ok perfetto allora dice il ragazzo non potrà lasciare suo padre te l'avevamo detto l'altra volta che se che se beniamino lasciasse suo papà morirebbe allora 22 lasciamo giù guardiamo giù 22 se lasciasse suo padre quelli morirebbe Jacopo pensava ah forse perché diceva perché lui diceva eh ma se portate via lui morirà anche lui perché lui ha pensato così Giacobbe forse è stato decretato che i figli di Rachel come lei stessa debbano morire per strada Rachele è morta per strada ha partorito appunto beniamino e per strada fuori dalla città beniamino è nato per strada e lei è morta sul suo parto di questo famoso beniamino allora Jacopo dice Rachele stessa è morta per strada poi dice suo figlio Giuseppe ho mandato Giuseppe e non è più tornato è andato per strada anche lui è morto per strada sempre Giacobbe pensa lo stesso potrebbe accadere anche a beniamino se lo mandassi perciò lui dice forse è una maledizione di questo di questa donna che lei è morta per strada il suo figlio Giuseppe l'ho mandato e non è più tornato sarà morto per strada anche beniamino che è suo figlio se lo mandano non gli era per strada anche lui allora non voglio è mandato questo è quello che Giuseppe che Jacopo pensava che così come la mamma è morta per strada anche i figli ma diceva Yehuda a Yussef tu hai ignorato i nostri timori e hai richiesto a ogni costo che ti portassimo beniamino ti abbiamo detto già all'epoca guarda che se noi prendiamo beniamino papà morirà tu non ti sei curato di questo problema qua e adesso vedi per colpa tua papà morirà perché è veramente beniamino adesso rimane qua 23 dicesti ai tuoi servi se il vostro fratello minore non scenderà con voi non vedete più la mia faccia perciò qua tutto questo discorso che Giuseppe che Yehuda sta facendo Giuseppe è per dire ma vedi che ci prende in giro cioè obbligati a portare un figlio un fratello ti avevamo detto che papà è collegato con lui anima anima tu hai detto no io lo voglio vedere se no non mi lascio andare per colpa tua adesso questo è successo 24 quando salimo dal tuo servo mio padre gli riferimmo le parole del mio signore tue leggiamo la nota 24 dal tuo servo mio padre i saggi nel Talmud criticano Giuseppe per aver tacciuto ben dieci volte senza reagire quando suo padre veniva definito suo servo adesso cosa ha detto nostro padre tuo servo giusto perché qua Giuseppe non reagisce doveva dire no no non permetteti di parlare così di un anziano o di un padre poteva reagire ma lui ha tacciuto per questo gli vennero tolti dieci anni di vita Giuseppe è morto dieci anni prematuro per le dieci volte che è stato detto nostro padre tuo servitore eppure il commentatore Zait Ranan fa notare che in realtà erano cinque volte in tutto una nel corso uno nella scorsa parasha e quattro in questa parasha qua questa di adesso e altre volte perciò dice ma non dieci volte cinque volte loro hanno usato questo modo di dire la Torah però afferma esplicitamente che Yosef comunicava con i fratelli tramite un interprete vi ricordate non parlavano direttamente c'era qualcuno che ripeteva e quindi sentì questa espressione il doppio delle volte una volta da loro e un'altra volta dall'interprete perciò in tutto dieci volte per quanto riguarda Giuseppe abbiamo detto che è stato punito perché per dieci volte non ha obiettato non ha battuto il ciglio quando il suo padre viene detto che è il suo servitore ok lui ha pagato con dieci anni va bene ma invece Yuda Yuda che ha detto perché lui non viene punito per quanto riguarda Yuda invece non si trattava di un peccato perché si rivolgeva al vice re dell'Egitto e all'epoca si parlava in questo modo ai sovrani quando parlavi con sovrano e menzionavi qualcuno e dire tal dei tali il tuo servitore cioè quella era la prassi quella perciò Yuda stava semplicemente seguendo le regole del posto non poteva andare in un posto e mancarvi rispetto al re doveva dire nostro padre il tuo servitore però il peccato è di Yosef che non ha obiettato Yosef invece non avrebbe rivelato la propria identità ok uno può dire ma sì ma lui non poteva dire niente perché doveva rimanere incognito non doveva farsi riconoscere ok ma qua dice Yosef invece non avrebbe rivelato la propria identità se avesse affermato che un cananeo non era suo servo quindi era suo dovere contraddire Yuda lui poteva dire no 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 il tuo pa abita a Canaan mica servo mio gli egizi sono i miei servi mica qualcuno di un altro paese cioè lui poteva dire così eppure lui ovviamente senza malignità ma non ha avuto l'accortezza di capire che non deve accettare che suo papà venga chiamato il suo servitore allora questo era il 24 25 nostro padre disse tornate comprateci un po' di cibo 26 gli diciamo non potremmo scendere scenderemo se il nostro fratello minore sarà con noi poiché non potremo vedere la faccia di quel signore se il nostro fratello minore non sarà con noi papà aiuto che insisti lui ha detto non tornate indietro finché beniamino non viene con voi ultimo 27 il tuo servo mio padre di nuovo ci disse sapete che mia moglie mi ha appartorito due figli uno mi ha lasciato e ho detto è stato sicuramente sbranato non l'ho più visto finora leggiamo 27 e 28 commenti tuo servo finora questo passaggio non è riportato nella risposta originale di Jacob la Torah è concisa in certi punti e più prolissa in altri mettendo da parte i dettagli per esporli quando sono maggiormente necessari finiamo questo passo qua leggiamo il 29 se prenderete se prenderete anche questo anche questo via da me e gli dovesse accadere una disgrazia condurrete la mia canizie alla tomba nel mare io morirò non c'è commento facciamo il 30 e basta e ora se tornassi dal tuo servo terza volta tuo servo papà cioè mio padre senza che il ragazzo sia con noi legata con me la sua anima alla sua morirà visto che le loro anime sono legate una con l'altra dice adesso se noi torniamo a casa senza beniamino papà morirà 30 e ora ora che nostro padre ci ha avvertito che qualunque disgrazia accada a beniamino non potrà essere attribuita a semplici coincidenze perché l'aveva detto lui loro sono maledetti quest'ora moriranno e ci rimproverà per averi causato questa disgrazia e morirà immediatamente il rebbe di Kotz che è un rebbe di una dinastia diversa di Nune Chabad lui dice con il suo tipico acume chassidico diceva beniamino lui aveva a casa dieci figli questo famoso beniamino il fratello piccolo non era un bambino aveva già dieci figli che era una casa che lo aspettavano questo beniamino quando Iuda perché Iuda non accenna al dolore che essi avrebbero provato per l'assenza del padre lui quando parla dice nostro padre morirà se beniamino non torna se beniamino non torna perché non menziano neanche una volta i figli di beniamino anche anche loro se vedono che papà non torna potranno morire di tristezza perché invece lui non li nomina neanche una volta questo è un esempio del fatto che i genitori abbiano più compassione dei figli di quanto i figli ne abbiano per i genitori vuol dire lui si preoccupava per papà perché un papà ha compassione per il figlio non si preoccupava dei figli di beniamino perché un figlio ha meno compassione verso il padre perché appunto che qua dice papà avrebbe sofferto tanto ma i figli soffrono di meno perché l'amore di un padre è sempre più forte di un amore del figlio per il padre la sua anima è legata una con l'altra la tradizione riporta a quella letterale ma il significato è legato com'è a lui allora lui morirà praticamente che erano molto connessi a livello di anima ok ci fermiamo qua qualcuno vuole chiedere o dire qualcosa prego Davide vuole dire qualcosa beh adesso come abbiamo ripreso l'argomento della della lezione scorsa e qui la stirpe regale di Israele si manifesta in Yehuda perché è solo lui che parla con il re quindi sono due re che parlano insieme e anche l'autorità che Yehuda ha questo vai gash anche questa diciamo azione forte è l'azione di un re verso un altro re quindi in questo momento della in questo pezzo di Torah vediamo che Yehuda e Yosef sono allo stesso piano a livello di autorità perché lui che si avvicina ti dico una cosa all'orecchio no ti dirò di più Yehuda è più autorevole in questo caso la sua forza maggiore anche esatto anche per il fatto che cioè ti avvicino all'orecchio è una confidenza tra re quindi si capisce il perché la la tribù di Yehuda sarà quella del regno di David poi ovviamente la stirpe messianica e tutto e tutto ciò ecco giusto è un è una cosa molto interessante proprio manifesta proprio in questi in questi passuk che abbiamo letto oggi sì proprio così proprio così grazie